Cecilia, super contenta, ci fa vedere la sua nuova casa e stanno finendo il lavoro e ci andrà a vivere con Ignazio. Allora, in questa giornata molto speciale e molto romantica vi faccio vedere casetta che hanno pitturato tutto e stanno finendo la sala, il pavimento della sala, quindi vi faccio vedere un pochino, vi faccio vedere qua che bello. Abbiamo scelto questo colore per tutta la casa, arriva, arriva, è questo il bagno, che viene armadio, invece nella nostra stanza abbiamo scelto un colore un po' più oscuro, che bello, il nostro bagno non si vede, si sta arrivando. Eccola, wow! E questa vi faccio vedere sarà la cabina armadio e quindi qua mi parlo con delle sfidate, mi parlo con delle sfidate perché... Ora la domanda è secondo voi è il letto, si entra qui, che abbiamo dovuto fare un letto un po' più grande perché qua è lungo, come tu non sapete, si entriamo no? Entriamo, entriamo benissimo? E qua sarà... Qui. Io l'avevo detto un po' di frulli. No, non è vero. Non è vero? No. No. Che bello. Le porte capelli che avevano scelto. Mi piacciono tanto, questi due si chiusono. Guarda qua. Ciao. Così. Qua sarà il salotto, quindi qua metteremo un bel livano che arriva in questi giorni. Casa molto bella e elegante e la vedremo finita fra qualche mese. Intanto domani arriva il salotto. Gesù di 4i e la vedremo il salotto. Grazie a tutti.